Quando mi dicono 60 anni io dico ma sono in vita, sto bene, che duri, quindi penso che anche così dire grazie tutti i giorni, anche guardare l'importanza delle piccole cose, delle amicizie, dell'amore, dei figli. Ed ecco la ritratta dal compagno Tim Burton in copertina, 60 anni lei, 60 Vogue Italia. L'idea editoriale, lo sguardo di un grande fotografo, la rivista di moda come espressione estetica, mezzo per raccontare la società che cambia e provocare riflessione e dibattito. Sullo stereotipo del bello, sull'ossessione per la chirurgia estetica, il covid e la copertina bianca e poi la prima volta, le donne formose, la modella asiatica, le donne di colore. Un racconto che inizia con novità nel 64 quando le donne in passerella scoprono gambe ombelico. Anni dove i giovani scendevano in piazza per conquistare le proprie libertà, un'attitudine alla vita che noi speriamo di promuovere ancora.